Allora, è come una passeggiata a Parigi Ci sono guitarristi qui, uso... come si chiama questo in italiano? Il capo è... Sul tasto 4 c'è questa corda che è buona Per loro che non suonano la gitarra, uso il capo tasto 4 La stessa corda Per loro che non suonano la gitarra, uso il capo tasto 4 c'è questa corda Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.